Siamo nella sede di Avvenire, si parla di TV2000, si parla di In Blu, si parla di una comunicazione che mai come adesso ha bisogno di attenzione e soprattutto di non menzogna. Ecco, questa è la mission vera degli strumenti che sono ispirati cristianamente. Nelle nostre testate abbiamo dei professionisti di primo livello, abbiamo persone non solo rispettose della verità delle cose ma anche preparate, competenti, persone che sanno studiare, sanno confrontarsi e con questo sanno dare un'agenda sanno dare un'informazione di qualità. Non vuol dire che siamo arrivati, non vuol dire che siamo i migliori vuol dire che c'è una disponibilità reale a misurarsi con le sfide di oggi, non ultima quella di lavorare di più insieme tra testate. Oggi la cultura digitale ci mette a disposizione la possibilità di farlo. Serve che ciascuno abbia l'umiltà e la volontà di mettersi in gioco. Secondo lei come siamo messi nel Paese a comunicazione? Bene oppure veramente ci sono troppe fake news? Questo tempo ci consegna la possibilità a ciascuno di noi di prendere la parola, di dire la propria, di postare un video, un commento, di dir la nostra opinione. Questa è una grandissima ricchezza e nel contempo ci accorgiamo che stiamo pagando anche un prezzo altissimo perché spesso chi prende la parola lo fa senza competenza, lo fa senza un profilo deontologico. Lo fa a volte portando nella rete, portando nei social soprattutto la pancia più che la testa e il cuore. Credo che serva riuscire a governare anche questo tempo, a valorizzare questa possibilità orizzontale che restituisce parola a tutti e questa è una ricchezza oggettiva insieme a quella formazione, quella sensibilità e quell'esperienza che sono altrettanto importanti.